bene ragazzi stiamo effettuando un video con l'obiettivo la dsc qx 10 di sony che c'è stato dato all'ifa di berlino e proviamo adesso anche a fare un pochino di zoom vedere un pochino come si comporta nel realizzare appunto questo zoom e direi andare fino al massimo ecco poi torniamo indietro bene quindi questo era il video con il dsc qx 10 l'obiettivo di sony per le smartphone grazie